Un'operazione antimafia condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Enne e della squadra mobile di Enna Villarosa. Gli investigatori hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della D.D.A. Nissena a carico di quattro persone ritenute responsabili di omicidio e distruzione di cadavere aggramati dalla modalità mafiosa e di associazione di tipo mafioso. Le indagini avviate nel 2015 dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta hanno anche consentito di fare luce sulla scomparsa del proprietario della rivendita di tabacchi Giuseppe Bruno avvenuta a Villarosa il 27 maggio del 2004 che sarebbe stato ucciso con il metodo della lupara bianca. Bruno era andato a riscuotere un credito ma invece fu ucciso. Il suo corpo sezionato con una motosega è dato in pasto in parte ai maiali in parte bruciato all'interno di alcuni fusti metallici. A 13 anni dalla scomparsa del tabaccaio di Villarosa Giuseppe Bruno dopo un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e svolta dalla squadra mobile e dai carabinieri del comando provinciale di Enna quattro componenti dello stesso nucleo familiare sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione denominata fratelli di sangue. In cella sono finiti i fratelli Damiano, Amedeo e Maurizio Nicosia rispettivamente di 60, 51 e 54 anni ed il cugino Michele Nicosia 53 anni. Sono accusati di associazione mafiosa con aggravanti specifiche finalizzata a commettere omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi nonché ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Maurizio Nicosia ed il cugino Michele sono accusati dell'omicidio del tabaccaio e della distruzione del suo cadavere. Dell'uomo erano state perse le tracce il 27 maggio del 2004. La sua auto era stata trovata parcheggiata vicino allo svincolo di Mulinello sull'autostrada A19. Le recenti dichiarazioni rese alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta da un collaboratore di giustizia diretto testimone dell'omicidio hanno permesso di ricostruire la vicenda. Il clan dei Nicosia è stato già in passato al centro di vicende che riguardano il traffico di stupefacenti e agevolato la latitanza del boss di Gela Daniele Manuello ucciso dalla polizia il 3 dicembre del 2007 mentre tentava di fuggire da una casa di campagna tra Villarosa e Villapriolo dove si era nascosto.